globo contro la terra piatta video vero contro modello in 3d con grandezze reali ho realizzato un modello in 3d con le dimensioni reali della terra all'interno del programma sketch up col diametro equatoriale pari a 12.756,3 chilometri ho fatto queste due schermate da youtube un pallone ad alta quota 36.880 metri dove non si vede la curvatura stazione internazionale spaziale a 400.000 metri la curvatura si vede all'interno del programma sketch up si vedono disegnate le altezze del pallone ad alta quota a 36.880 metri e la iss a 400.000 metri vediamo la prospettiva dalla fotocamera ho salvato ambedue gli screenshot iss a 400 chilometri la curvatura è visibile pallone ad alta quota a 36.88 chilometri la curvatura è visibile confrontiamoli con photoshop la veduta dalla iss col suo filmato reale e il pallone ad alta quota col suo filmato reale combacia perfettamente ottimo lavoro nasa adesso confrontiamo il pallone ad alta quota con il suo filmato reale non combacia si vede la campata blu nel mezzo scusate ma la terra è piatta è piatta è è è Ah!